Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Dangerisk, io sono Rob e oggi parliamo dell'incredibile e annoso dubbio che tutti quanti hanno Flea Market, sì o no? È un argomento che abbiamo già trattato in passato ma con l'avvento anche della patch 12.10 Vari update, vari fix, tutte le varie aggiunte e modifiche al mercato che sono attualmente in corso su Targov e anche in previsione Dalla patch 12.11 se non sbaglio sia la .13, la 0.1... quello che è Vediamo di affrontare questo discorso perché casca sempre a galla e tutti hanno pareri estremamente contrastanti Quindi prima di iniziare ovviamente vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella se ancora non lo avete fatto Perché molti di voi che guardate questi video non siete iscritti al canale e quindi vi perdete i video Quindi iscrivetevi così mi supportate e non solo ma voi così potete vedere nel vostro feed i video nuovi che arrivano Ovviamente se invece preferite seguirmi in live mi trovate all'indirizzo twitch.tv slash dangerisk Lì tutta la mia programmazione e le info utili per potermi sostenere Bando alle ciance allora e iniziamo Il flea market ormai è sempre una sorta di argomento di dibattito nella community di Targov E c'è chi ovviamente dice che tutto è a posto, chi lo vorrebbe eliminato, chi lo vorrebbe appunto riscritto Comunque controllato da parte di Battlestate Games È inutile dire che attualmente il gioco non è quello che dovrà essere diciamo il gioco nella sua versione finale Secondo le idee di Battlestate Games Basti pensare che nell'idea di Nikita il gioco addirittura arriverà a un punto in cui i trader non potranno essere consultati attraverso il menu Ma noi dovremo attraversare le mappe per andare in punti specifici dove acquistare dalle cose dai trader Tornare indietro e depositarle nel nostro hideout Questo per farvi capire come dovrebbe cambiare tantissimo il gioco in futuro Ed è solo uno degli aspetti Ma principalmente il problema del flea market nello stato attuale delle cose A quanto pare da parte degli utenti deriva dal fatto che dopo il livello 10 praticamente è un free for all Cioè il flea market purtroppo per fortuna permette di acquistare qualsiasi cosa E per tutti coloro che hanno sperimentato il gioco prima dell'avvento del flea market Quindi parliamo di un'epoca della open beta Parliamo appunto dal momento in cui ho anche io acquistato il gioco Si tratta di settembre 2017 Una roba del genere Appunto ha più questa propensione di volere il gioco magari senza il flea market O che delle politiche che controllano davvero tanto l'economia lì presente Ricordiamo anche un'altra cosa Che in futuro l'economia di Tarkov sarà legata anche alla casualità degli eventi Alcuni trader non saranno disponibili Ci saranno delle mancanze di materiali Altri venderanno una determinata merce in un periodo e basta E così via Questo è un esempio che può portare ad esempio il cosiddetto fuel shortage che c'è stato Cioè la scarsità totale di benzina che ha fatto fioccare i costi alle stelle E ovviamente la carenza di disponibilità per poter alimentare il proprio hideout Però qua si sta parlando proprio di una preferenza da parte degli utenti Una preferenza che varia moltissimo dal punto di vista dell'approccio al gioco In questo caso abbiamo tutti coloro che magari hanno la possibilità di attingere Grazie a una quantità di denaro cospicua dal flea market e poter acquistare qualsiasi cosa E chi invece dice che il gioco così diventa troppo facile O la disparità tra utenti arriva troppo presto all'interno del wipe Quindi dopo il livello 10 in poi anche perché con il libero accesso al labs O comunque il farming su reserve degli scavrider Soprattutto all'inizio del wipe Non permette a molti che magari non sono così coraggiosi o così farmosi Di poter tenere testa a tutti coloro che invece Già dall'inizio del gioco riescono a poter accedere a cose come SA58, MS61 Sleek Armor e così via Quindi la verità come sempre dovrebbe stare un pochino nel mezzo E il mio parere sulla questione del flea market Deriva un po' da una persona che ha giocato il gioco prima e dopo il flea market Che comunque non è così farmosa come altri giocatori Non è così brava come pochi giocatori Ma quindi riesco un attimino a stare nel mezzo Ad ascoltare entrambe le campane Capire perché uno dice una cosa E un altro tipo di utente ne dice un'altra Nella realtà il problema fondamentale del flea market forse È dovuto alla scarsa reattività da parte di Battlestate Games Di configurare quello che è l'aspetto di un mercato In continua evoluzione Ma che soprattutto subisce le modifiche dei comportamenti da parte dell'utente Quindi quando magari gli utenti scoprono uno streamer che fa una determinata cosa Tutti gli utenti cominceranno a fare quella determinata cosa E quindi si cambierà completamente magari un certo aspetto del market Vi ricordo il periodo in cui poteva essere acquistato o venduto il bitcoin sul flea market Il casino che ne è scaturito a tal punto da bloccare la compra-venta del bitcoin sul flea market Questo è solo un micro esempio di cosa può succedere Poiché un'economia guidata quasi esclusivamente dagli utenti E non solo ma attenzione anche dai cheaters e dai siti di rivendita di terze parti Che ricordiamo non sono legali Cambia completamente l'esperienza off-game E a volte anche quella in-game Però qua che cosa succede? Succede che io faccio sempre un esempio Faccio l'esempio di il fatto che Battlestate Games a volte crea dei bellissimi tavolini Ma non gli mette le gambe In questo caso abbiamo non un tavolo ma un ripiano In questo caso il flea market è esattamente questo a mio avviso È un bellissimo ripiano per un tavolo senza le gambe Questo perché? Perché ormai il flea market è in ballo da tanti anni Cioè per un gioco ancora in fase di sviluppo È ormai online da tanti anni come aspetto del gioco Il grosso problema però è che le modifiche O comunque la supervisione del flea market da parte di Battlestate Games È sempre stata altalenante È adottata solo ed esclusivamente in momenti in cui Il tutto era come si può dire game breaking E quindi poteva rompere il gioco Però non c'è mai stato un controllo effettivo Di quello che potrebbero essere le regole che governavano il flea market Partiamo proprio dal nome Il flea market letteralmente significa mercato delle pulci E a me non pare che in un mercato delle pulci Io possa acquistare dei proiettili che possono bucare le armature O delle armature di livello 6 O delle enormità come un RS, ASS, ottiche a lungo raggio O cose di questo tipo O non lo so, granate per il lanciagranate Insomma è già un po' contraddittorio Il fatto che il mercato delle pulci permette di avere qualsiasi tipo di oggetto in game Insomma è forse troppo questo aspetto Ma la vera diversità la notiamo come esista questa sorta di cura e attenzione Mancata per uno di due aspetti L'aspetto di acquisto monetario Che è curato il più possibile da parte di Battlestate Games C'è cercare di evitare fregature Ti metto l'avviso se tu vendi in dollari invece che in rubli Ti metto l'avviso se tu lo stai vendendo a un prezzo troppo alto rispetto a quello è E' il mercato del baratto Che non ha assolutamente nessun tipo di controllo da parte di BSG Infatti capita a volte che tu acquisti senza accorgertene un oggetto E magari cosa ne so Per un Slim Diary gli hai dato indietro due GPU Senza nessun avvertimento Senza nessuna possibilità di capire cosa tu stai facendo Basterebbe anche un pop up Tipo che tu dici ok acquista Ti dice attenzione sei sicuro di voler dare due punti Ti mostra i tuoi oggetti Per due punti oggetto che tu vuoi acquistare Sì no Che tu devi cliccare col mouse un po' Cliccare col mouse un po' come quando tu devi mettere all E poi premere yes no Che se no ti mette Se no così capito ci sono i bot che fregano Non c'è nessuna cura per l'aspetto del baratto Aspetto del baratto che a mio avviso dovrebbe essere proprio il cuore del flea market Quindi non eliminare o cambiare radicalmente il flea market dal punto di vista monetario Limitazioni livello 20 livello 30 no Ma spostare il flea market verso quella che dovrebbe essere esattamente La La sua nomenclatura Il mercato delle pulce o comunque un mercato Più mirato al baratto Quindi è una situazione di sopravvivenza Che so io voglio una scatola di fagioli Ti do due proiettili O una scatola di fagioli Ti do due pacchetti di sigarette per dirti Dove magari il flea market dovrebbe essere governato da Un valore del mercato Che si ok è modificato dal pubblico Però va a di pari passo con quello che è l'oggetto Io voglio acquistare cosa ne so Un oggetto al valore di 500.000 rubli Ok Allora per l'oggetto di 500.000 rubli Io devo dare degli oggetti che sommati Danno quel tipo di valore O che comunque possono essere utili per l'altro giocatore Magari può essere inserita una sorta di preferenza Cosa ne so Vendo una GPU Però ho bisogno di oggetti tecnici Preferenza 1, 2, 3 Possono essere al primo posto Ho assolutamente bisogno di Non lo so 10 lampadine Sto buttando lì cose a caso 8 obiettivi Nixor Oppure sto cazzo quello che è Che si già accade Ma non è mai chiaro È quasi sneaky Spesso è fatto in maniera truffaldina Bisognerebbe spronare l'utente A poter gestire il mercato In maniera più da mercato Il mercato è esattamente questo È una compravendita di beni O in questo caso uno scambio di beni Perché ricordiamo che Tarkov Dovrebbe essere inventato in un mondo disastrato Dove la gente Te lo proprio dice nelle descrizioni Cane mangia cane Quindi c'è la disperazione Ma tutto questo non accade E viene tutto portato semplicemente A una questione di soldi Hai tanti rubli Compri tante cose Non hai tanti rubli Cazzi tuoi E uno direbbe Ok ma è esattamente la legge del mercato Sni Quando tu crei Appunto Un'intera sezione dedicata A una cosa che tu chiami in un modo Ma che poi agisce in tutt'altro modo Pertanto Io non sono né per chiuderlo Né per monopolizzarlo Ma per modificarlo O dare degli strumenti O creare delle regole Affinché questo mercato Funzioni esattamente per ciò Che declama essere Un mercato delle pulci Questo Fine Ci saranno modi Per tarare sicuramente Magari Non lo so La questione del livello d'entrata Del player Livello 10 Oppure devi fare delle missioni Per sbloccarlo Oppure non lo so Dipende dal Il grado di soddisfazione Dei determinati trader Oppure dipende dal Non lo so Da quello che riesci a fare All'interno del gioco Con determinate regole Contesto Non lo so Però sicuramente Non si può lanciare Un'opzione Come grande E piena di responsabilità Come il free market E prendersene cura Un pezzetto Solo ogni anno A mio avviso È forse troppo Il tempo che passa Nella cura E nel perfezionamento Di determinate meccaniche Perché Quello che mi va in culo È come battle state Punti a Modificare o correggere Cose incredibilmente stupide Tipo Quando premi alt b E poi b Il suono adesso si sente Anche se stai guardando l'arma Però porca puttana Se io compro un'arma E compro gli oggetti intorno Non mi sposti l'arma in automatico Quando io devo inserire il preset Ma devo uscire Andare nel menu Spostare l'arma Ritornare nel preset Dire Inserisci tutti i pezzi Cioè capite che sono Assurde un po' queste cose Tutto qua È una questione di priorità D'attenzione Che a volte A battle state Manca Per poter soddisfare Magari entrambe Le campane Ecco questo è il mio punto di vista Ovviamente qui ripongo La domanda a voi Flea market Si No Con motivazione O altrimenti Una vostra idea Su come dovrebbe essere gestito Grazie ancora del vostro tempo Ragazzi E come al solito Vi invito a iscrivervi al canale E attivare la campanella Per non perdervi I prossimi caricamenti Se volete supportarmi Trovate tutto qua in descrizione Tra cui la mia Amazon wishlist E tutti gli link Per i componenti del mio pc Grazie ancora E noi ci vediamo sul campo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti